Ciao, da dove vieni? Che personaggio rappresenti? Ciao, vengo da Bologna e rappresento il personaggio di Trash, stella oscura da League of Legends. Com'è stata la realizzazione del costume? La realizzazione del costume è durata abbastanza, si parla di circa 4-5 mesi in realtà. E' tutto fatto in warbla interamente e con alcune rivestite in foam. La sfera è una sfera di plastica con solamente dipinto e per quanto riguarda il circuito led, è un semplicissimo circuito led per le corna con una striscia, invece la golla è fatta interamente con i led di odio. Come sei entrata in questo mondo del cosplay? Cos'è che ti ha spinto? La prima volta sono stata a Luca Comics e mi è piaciuto un sacco vedere tutti questi cosplay. E secondo le videogioca trincio mi sono appassionata di parecchi personaggi e ho voluto rappresentarli facendo cosplay. Che sensazione ci provi a interpretare il proprio personaggio preferito? Non lo so, è bello perché delle fiere mi piace un sacco il fatto di incontrare altri cosplayer del mio stesso videogioco, di fare i raduni, anche scambiarsi opinioni, pareri e consigli anche per la rilettazione dei prossimi. E' una cosa che ti fa divertire e ti sprona la fantasia, ti impari davvero un sacco di cose. E' davvero molto bello ogni anno, ho usato tecniche diverse, materiali diversi e questa è la cosa che mi piace di fare così. Qualche consiglio da dare ai ragazzi e alle ragazze che vogliono entrare nel mondo del posto? Sicuramente di puntarsi, iniziare pian pianino perché tanto io sono partita dalla carta a festa, ho fatto la mia prima armatura e ho fatto il cartoncino e carta a festa, proprio partire dall'inizio e divertirsi soprattutto, che cosa che adesso sto vedendo che manca molto. C'è più il lato competitivo e si sta perdendo un po' il senso del divertimento che secondo me il posto di dovrebbe avere. in questo senso del divertimento, di vedersi, di contendere con una passione. Ciao, da dove vieni? Che personaggio la presenti? Allora, io vengo da Tatiogia, qui in Venezia e rappresento Atena, di Cavaliere di Tuttia di Atena, Atena God Cloth. Allora, raccontami un po' come è stata la realizzazione del costume. Tutto appigianato? Quanto ti hai messo? Allora, ci ho messo 9-10 mesi, praticamente, tutto in nevaforma, 5 mm. E sì, è stata dura, specialmente le ali perché hanno il meccanismo che si apre nel sole. Ma come sei entrata nel mondo del cosplay? Praticamente lo conoscevo già fin da piccola, però nessuno mi poteva portare. Allora, un giorno io e i miei amici abbiamo detto perché non andare a Luca Comics? E siamo andati il primo 2016, il primo mio Luca Comics. E da là, sono andato avanti, ho fatto tre cosplay, insomma, e questo è l'ultimo che ho realizzato. Bene. Che sensazioni sei in prova a interpretare i propri personaggi preferiti? E' una sensazione, penso che non si possa descrivere perché tu interpreti un personaggio che ti piace e allora ti metti proprio nei panni del personaggio e quindi è bello perché poi la gente ti riconosce e ti dice le foto, insomma, una bella, una bella sensazione, ecco. Invece salire sul palco, quindi fare, cioè mostrare i propri costume, esibirsi. Esibirsi lì è diverso perché c'hai un pubblico enorme, insomma, che ti guarda e allora tu sei emozionato perché c'è l'emozione anche che ti prende in gioco, no? E quindi è bellissimo, cioè a me piace fare le gare, quindi, insomma, è il mio mondo praticamente. Che consiglieresti a ragazze e le ragazze che vogliono entrare nel mondo del cosplay? Basta che fanno il personaggio che ti piace e là è l'inizio, insomma, io ho iniziato così. Ciao, da dove vieni? Che personaggio rappresenti? Eh, ciao, io vengo da Roma, sono la maga di Diablo 3. E' una skin particolare perché questa è la versione base di un mob che hanno fatto con tutti i personaggi blizzard chiamato Heroes of the Storm. Com'è stata la realizzazione del costume? Tutto artigianale? Parto, parto. Quanto c'hai messo? Allora, a fare il vestito, la parte poca sartoriale che c'è, ci ho messo più o meno una o due settimane, ora non ricordo perché non l'ho fatto tutto insieme. Invece tutto il resto, parti armatoriali, di armature, eccetera, ci ho messo 4-5 giorni, ma perché mi sono sbrigata. Mancano pure dei pezzi, ma mi hanno abbandonato le pietre fatte in resina, perché avevano deciso di abbandonarmi, quindi mi mancano pure dei pezzi. Come è nata questa passione del cosplay? Per puro caso, perché mi era piaciuto un vestito qualche anno fa, credo 2014 addirittura, avevo chiesto a mia madre se mi aiutava a farlo, l'ho letta da fuori la macchina per cucire, mi ho messo un pezzo io e un pezzo lei e poi io non l'ho più smesso. Che sensazione si prova a interpretare il proprio personaggio preferibile? È divertente, è divertente, certo, alla fine diventa più divertente tanto fare il vestito che andarlo a interpretare, almeno per quanto riguarda me, ovviamente ognuno la vede a modo suo. Io personalmente mi diverto, poi mi capita sempre di fare un certo tipo di personaggi, ma sono comunque personaggi che sono molto diversi tra loro, quindi c'è quello un po' più timido, quello un pochettino più estroverso, che quello che se la sente è un po' di più tipo questa. Ognuno ha la sua. Hai partecipato a delle gare? Sì, poche, oggi voglio provare a partecipare, non mincerò mai ma non mi importa, voglio solo divertirmi. E che sensazione si prova a salire sul parco? È molto divertente, devo dire, poi se la prendi con filosofia e vuoi soltanto divertirti, ti passa via facile facile. E qualche consiglio da dare ai ragazzi e alle ragazze che vogliono entrare nel mondo del cosplay? Fatelo, provate, provate, a forza di provare uscirà qualcosa. Io anni fa non sapevo fare una riga dritta con la macchina da cucine, non sapevo che incollando in un certo modo venisse un certo effetto, adesso lo so, quindi a forza di provare si riesce a fare sempre delle cose simpatiche. Perfetto, per me. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Ciao da dove venite, che personaggi rappresentate? Allora, io vengo da Verona, rappresento il video dell'anime Overlord. Io sono Momonga, che è il suo compagno dello stesso anime e sono qua di Bologna. Com'è stata la realizzazione del costume? Allora, io non mi sto piacerebbe tantissimo di imparare, perché io ho l'alversata di Felicia, che gli accessori con le corna riarma, gli ho portato il video che mi piace. Molto autodidatta, imparerò, perché comunque è il mio terzo anno di cosplay. E quindi, insomma, questo l'ho fatto in una settimana. Tutto appisanale? Sì, ho imparato ad usare il foam, che non lo sapevo usare. Come siete entrati in questo mondo del cosplay? Tramite amici, si hanno prelevato, portato in fiera, io mi sono detto, dai, perché non mi metto in costume anch'io e divento quello che voglio per un giorno? Spessa cosa per me. O quello che vorrei sempre essere, non lo so, ammetto che non lo so. Spessa identica cosa per me. Ho trovato un personaggio di cui mi sono innamorata, ho detto, appena ho il fisico giusto, lo faccio. Fino ho trovato la salta, quindi buono. Che sensazione si prova a interpretare il proprio personaggio precedente? Vabbè, per me è bellissimo. È bellissimo, anche perché trovi fan, trovi persone che piacciono le stesse cose che piacciono a te e ti appenziano per quello che fai, perché sono fan anche loro, quindi per questo che ti piace. Diciamo, per quanto riguarda me, quando indosso il costume l'unica cosa che riesco a pensare è oddio, quando me lo tolgo, ma il momento che arriva il bambino di 4 anni che chiede la foto, quello è il momento migliore della giornata. Sì, 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 sì. È vero. Quello è verissimo. È vero. Che consigli dareste ai ragazzi e ai ragazzi che vogliono entrare nel mondo del cosplay? Io sono ancora novellina, quindi divertitevi, abbiate pazienza, girare in piedi dipende dal cosplay è un caos, quindi arrumatevi di pazienza, e poi dipende uno per chi lo fa. Mai avere paura o dire no, quel cosplay non lo posso fare, non è il mio personaggio, è più alto, più basso, più largo, ha i capelli diversi. Io non sono 150 kg come l'originale, però c'è un po' provata a sorprendere. È quello, uno lo fa per passione, fare quello che vuoi, non iniziare a dire faccio questo, piuttosto che per quest'altro, perché è di moda, ma seguire quello che uno vuole. Esatto. Ciao, da dove vieni, che personaggio rappresenta? Ciao, io vengo da Parma, poi rappresento Black God da sopra, di Black Rock Show. Com'è stata la riflessione del posto? Ci ha messo molto tempo, infatti ci avevo messo 4 mesi per farlo, tutto. Tutto artisanato? Sì. Tutto l'artisanato. Com'è sentata nel mondo del posto? Allora, sono andata a Lucca tanti fa, ho visto tutti questi personaggi, ho detto no, lo voglio fare anch'io, quindi l'anno dopo ho messo, per esempio, andato a Luccarci, e quindi... che stessi. Che stessi sono sui quali interpretare il tuo personaggio di Porta Riva? Beh, è bello, c'è... io lo faccio per divertire lenti, quindi mi piace abbastare le giornate anche. Che consigli daresti ai ragazzi e ragazze che vogliono dare su un tuo posto? Cominciate, intanto, anche se avete tipo ad iniziare, buttatevi e... che è divertente. Ciao, da dove vieni? Che personaggio rappresenti? Ciao, vengo da Forlì e rappresento... un po' di cosplay di Cirilla, un personaggio, diciamo, co-protagonista di The Witcher 3. Com'è stata la realizzazione del tuo studio? Lenta e complicata, lenta e complicata, però ce l'abbiamo fatta. C'hai messo molto? Eh sì, perché non ho molto tempo, quindi ci ho messo un po' di tempo con farlo, sì. Com'è nata questa discussione del Cosmo? È nata... io sono un nerdo da sempre, però è nata due anni fa al Remini Comics e ho voluto provare così per gioco, cioè ho voluto provare per mettermi in gioco più che altro e alla fine poi mi ha rapita e non riesco più a smettere di farlo. Che sensazione si prova a interpretare il proprio personaggio con la pericina? È una gran soddisfazione, è un apporto soddisfazione e posso finalmente esprimere me stessa per come sono un po'. Che consigli dareste ragazze e ragazze? No, perché a casa sono un capo di ragazze! di essere timidi e di scordare di divertirsi. Ciao, come ti chiami e dove vieni? Che personaggio rappresenta? Allora, sono Luca, il personaggio è Zamasu dal Dragon Boy Super, sono un cosplayer veneto della Concioli Venezia. Ehm... Claudio! Com'è stata la realizzazione del costume? È stata tanto una decisione difficile da prendere perché è un personaggio abbastanza complesso e poi ho detto perché scegliere la versione normale perché io sarei la versione semi-corrotta di Zamasu, ovvero nella fase di Dragon Boy Super quando combatte contro Vegeto Super Saiyan Blue viene colpito talmente tanto forte dal Saiyan che non riesce a rigenerare la parte immortale come vedete da questo lato e quindi ritornare come completamente verde come di qua. Il mio personaggio è composto da un Kaioshin immortale e da Black Goku con lo spirito di Zamasu mortale ovviamente. Cioè un Saiyan ibrido di Kaioshin. Come è nata questa sessione del cosplay? La sessione del cosplay è nata tramite una mia amica che è qui in fiero anche lei sotto le vesti di Atena e mi ha trascinato dentro questo mondo e mi ha fatto prova e ho provato dal poco, dal piccolo cosplay e sono entrato e sono arrivato a questo video. Che sensazione si prova a interpretare il proprio personaggio preferito? Allora, l'età di 27 anni devo dire che è sempre una bella sensazione perché ti fa sentire ancora bambino. Invece la sensazione di essere sul palco e quindi mostrarci al pubblico? Allora, all'inizio è stato un po' un problema perché ho sempre avuto paura di mostrarmi al pubblico sino quando ero bambino. Però ho provato la prima volta l'anno scorso quando interpretavo Vox di Borsaria e Rosè con la mia prima contest e ho visto che era anche un metodo di sfogo mio perché portando personaggi cattivi quindi ti porta a sfogarti e poi ti porta a fare tutta la rabbia che hai dentro per entrare nel personaggio. Quindi devo dire che è una bella sensazione stare sul palco anche se l'ansia tanta prima di arrivarci. Qualche consiglio da dare ai ragazzi e alle ragazze che vogliono entrare nel mondo del posto? Sì, qualche consiglio di entrare soprattutto pensando pensandolo come un gioco, un divertimento come qualcosa di bello come un hobby non come competizione a livello cioè tu non meriti perché sei peggiore di me oppure così aversi contro deve essere più un divertimento a livello personale oppure anche un semplice motivo per stare in compagnia con gli amici e le fiere. Ciao! Ciao da dove venite? Che personaggi rappresentate? Ciao! Arriviamo da Parma Jack Skeleton ovviamente e Sally Come è stata la realizzazione del posturo? Poi devi parlare di Sally Niente, sono partita dalla stoffa ho dipinto le righe singolarmente una per una e poi ho assemblato diciamo due miei strumenti Tutto artigianali? Sì, sì, tutto artigianali Come è nata questa passione del cosplay? È una passione mia diciamo sempre ammattuto Io sono un oggetto Sì, ho sempre ammattuto molto per vestirmi e poi mi sono avvicinata aveva 5 anni qua in quel mondo del cosplay andando a look a comics e quindi niente, adesso continuo Che sensazione si prova a interpretare il proprio personaggio preferito? È una sensazione molto bella perché riesci a dare vita a qualcosa che comunque hai sempre amato hai visto sullo schermo e quando diciamo diventi tu a interpretarlo da una sensazione soprattutto se riesci se è soddisfatto del tuo lavoro se riesci a farlo bene è una sensazione molto bella Qualche consiglio da dare ai ragazzi e alle ragazze che vogliono entrare nel mondo del cosplay? Debuttarsi semplicemente si inizia con poco poi si aggiunge sempre di tutto Ciao, come ti chiami? Da dove vieni? Che personaggio rappresenti? Mi chiamo Mattia rappresento Kaddish la signora dei gatti custode della memoria e spirito della luna un personaggio creato da Salvatore Callerami per il suo fumetto Dandelai Com'è stata la realizzazione del costume? Tutto artisanale? Quanto ti fai piegare? Sono 4 mesi di lavoro sono 1200 metri di tulle solo per la gonna più ci sono dei dettagli in tulle sul piccolo personaggio a supporto del mio questo è il protagonista del fumetto è una piccola un piccolo spirito dei soffioni si chiama Wema e anche lei è fatta tutta artisanalmente con pasta foam ho realizzato il prostetico con gelatina prostetica stesso materiale con cui ho realizzato le orecchie la vernice utilizzata per la colorazione la Pax Paint tecnica utilizzata nei programmi come Face Off che non lascia macchie sui vestiti e altre che sulle persone Com'è nata questa fase di un po' è nata per un motivo di evadere ero la persona sempre nell'angolino che tutti dicevano che non sarebbe arrivata da nessuna parte ho voluto dimostrare a tutti e soprattutto a me stesso che quelle cose non erano vere che successione si fa a interpretare le persone che non si è arrivata è una sensazione meravigliosa soprattutto perché quando una persona apprezza il tuo cosplay anche conoscendo il personaggio capisci di aver fatto un buon lavoro e di aver portato l'amore per quel personaggio anche oltre i confidi della notorietà invece di interpretare il personaggio sul palco quindi relazionare e farci vedere al pubblico che emozioni ti dà io scelgo generalmente i personaggi che sono molto vicini a me come tipologia di personalità o persone che hanno personaggi che hanno delle qualità che vorrei vedere meglio che vorrei fare meglio quindi quando entro sul palco l'emozione sono quei due millisecondi prima che parta effettivamente la traccia audio poi non esiste più confine di delineazione non esiste più Mattia o il personaggio esiste è semplicemente un'entità unica ibrida che consigli daresti ai ragazzi e alle ragazze che vogliono entrare in una cosa? essere molto forti perché il mondo dei cosplay è un mondo bellissimo che dà molti spunti ma purtroppo attira molte critiche dagli stessi cosplayer e dalle persone che ti giudicano in fiera quindi è un grande passo secondo me tutti dovrebbero approcciarsi al mondo del cosplay perché è un mondo assolutamente stupendo che lascia spazio alla creatività perfetto ti ringrazio grazie mille grazie a tutti 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 Grazie a tutti.